Musica, market, food, tanto divertimento e intrattenimento. È stato un ferragosto all'insegna del Vintage a Castiglion Fiorentino per l'edizione 2024 del Vintage Festival. Fino al 18 agosto il Borgo Toscano ospita la sesta edizione di un evento che ogni anno richiama migliaia di persone da tutta Italia. E che trasforma il centro storico del paese nel set di un film americano con auto e moto d'epoca esposte lungo le strade. Mercatini vintage, musica dal vivo e spettacoli di ballo nelle piazze. Tre postazioni live all'interno del Castiglion Fiorentino, Piazza del Comune, Parco Presentini e i nuovi rinnovati giardini di Piazza Matteotti. E cinque postazioni con DJ a partire dalle 17 che intratterranno lungo le vie del corso. Accanto a questo oltre 90 espositori per il market e tante iniziative anche di supporto sia dei commercianti che dei residenti che fanno vivere la nostra città. E anche il tessuto commerciale della cittadina della Valichiana ha risposto nel migliore dei modi. È un binomio sicuramente vincente che sta facendo crescere questo festival che si è affermato in Toscana come uno dei cinque eventi principali del Ferragosto. C'è tempo dunque fino a domenica 18 agosto per poter vivere l'atmosfera vintage a Castiglion Fiorentino.